Juventus, Vlaovic può davvero partire, un club all'offerta pronta. La Juventus sta iniziando a pensare alla squadra del futuro, dopo la stagione spiacevole di quest'anno. Sul fronte calciomercato per i bianconeri è molto probabile la partenza di Adrian Rabiot e Angel Di Maria, mentre va calcolato lo stato fisico di Paul Pogba. La squadra bianconera dunque ripartirà da alcune certezze, come ad esempio Alexandro Escesni, con i rispettivi contratti rinnovati. In bilico però c'è il futuro di un top player della vecchia signora. Si tratta appunto di Dusan Vlaovic, attaccante acquistato dalla Fiorentina per la cifra di 80 milioni. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, sul giocatore è forte l'interesse del Bayern Monaco. Dopo il rifiuto di Harry Kane, i tedeschi vogliono offrire alla Juve una cifra tra i 55 e i 60 milioni di euros con bonus. La richiesta dei bianconeri però è più alta. La Juve vorrebbe provare a rientrare dalla spesa fatta per Vlaovic chiedendo 90 milioni. Dove immagini il futuro di Dusan Vlaovic?